Un tempo si curava secondo scienza e coscienza. Oggi i medici di famiglia, almeno nel territorio della Asla Napoli 1, devono curare secondo il budget. Una circolare fissa dei limiti di spesa a cui ogni medico deve attenersi per prescrivere visite ed esami presso i centri convenzionati. Raggiunta la cifra, devono mandare i pazienti in ospedale. I tetti per alcune categorie come diabetici sono bassi. Il rischio è di raggiungere il budget in pochi mesi e soprattutto denunciano i camici bianchi, così finirebbe la prevenzione. Giuseppe Tortora del sindacato dei medici di base Sumai. Oggi la domanda di salute è nettamente aumentata, ci sono molti pazienti oncologici, numerosi diabetici. Se lei pensa che per il diabetico ci è stato dato, per tutti i nostri diabetici, un budget per un massimalista, cioè un medico che ha 1.500 assistiti di 2.500 euro all'anno, lei si renderà conto che come facciamo a gestire 100-200 diabetici che sono quelli che noi abbiamo negli elenchi con tale somma. Se la situazione resterà questa, un'altra conseguenza sarà che molti pazienti dovranno o pagare di tasca propria, oppure andare a intasare ulteriormente le liste di attesa degli ospedali. Noi adesso dovremmo fare più che i medici ragionieri, perché a un certo punto nei nostri programmi dovremmo mettere una luce rossa che si accenderà quando avremo superato questo famoso budget. Ma la cosa incredibile è anche anticostituzionale e che dobbiamo essere poi noi a dire ai pazienti guarda non puoi essere più curato, se vuoi essere curato devi andare in ospedale. Le immagini per fare una risonanza magnetica che oggi è di uso comune o una PET-TAC che è di uso comune per i malati oncologici, io sfido chiunque a dirmi quale ospedale napoletano lo faccia. E quindi ci vogliono mesi, mesi e mesi di prenotazione, gente ammalata che rinvia la propria cura, non sappiamo la diagnosi quando verrà fatta e come verrà fatta, se non si mette mano al portafoglio.